Salve ragazzi, oggi voglio portare all'attenzione questo magnifico sito di Ads Team in pratica è un sito dove puoi farti pubblicità ai tuoi vari link di altri sistemi, di altri business e in più guadagnare comprando dei pacchetti questa è la schermata principale, la panoramica, dove qui ci sono tutti i link dovete cliccare 10 volte per far funzionare il sistema questo è ogni 24 ore, dovete cliccare per 10 volte dopo che avete cliccato per 10 volte il sistema comunque continua ad andare questi sono i miei pacchetti 34, io sono partito con 20 questo è quanto guadagno mano a mano che passa il tempo in circa 2 giorni faccio 10 euro che mi permette di comprare un altro pacchetto i pacchetti vanno poi si vedrà nel dettaglio da 10, 25, 50 dollari questi sono i guadagni che ho fatto da quando clicco anche come questi e questa è la mia squadra che ancora sono a zero, ho cominciato da poco e da poco più di un mese e l'ho portato ora alla vostra attenzione per vedere come funzionava esattamente allora poi qua, account, allora questo è il profilo, sicurezza, ci sono tutte le varie come abbiamo visto in altri business registra delle attività che in pratica sono quando entri, quando non entri in via dicendo poi messaggi dell'amministratore, finanza, aggiungi fondi, pacchetti acquistati storia dei guadagni, storia dei pagamenti, io l'ho tradotto in italiano, si può tradurre da qui chi ce l'ha, comunque tramite google è riuscito a tradurre storia dei ritiri, non ho ancora ritirato, io vi consiglio almeno di investire, qualunque cifra vogliate investire di arrivare ad avere almeno come pacchetti 4 volte anche 5 la somma investita come vi ho detto io arriverò, voglio arrivare almeno ad averne, sono partito con 20 o almeno 80 per poi cominciare a ritirare, dovrei cominciare a ritirare almeno una volta al giorno perché mi permette di acquistare un pacchetto al giorno e uno posso ritirarlo ritorniamo qua, storia dei ritiri, non ho ancora ritirato balance del trasferimento, cioè possiamo trasferirlo dai vari balance dai vari balance cioè in pratica ritirare dal balance sul sito ai balance per ritirare poi la pubblicità banner pubblicitario, annunci di testo che sono sono quelli che fai, che puoi fare, con il pacchetto minimo di 10 dollari e quello di a 50 ti permette di fare altri tipi di annunci i banner, le accedi ai piani annunci le request pay to click che vieni pagato tutte le volte che clicchi puoi fare link cash acquista crediti in pratica ti acquisti crediti con i soldi generati dal sistema e puoi acquistare i crediti per fare pubblicità comunque te li hai anche investendo i soldi nel sistema non necessariamente comprando acquistando crediti compra la pagina iniziale in pratica qui compri la pagina iniziale e ti viene te puoi in pratica fare quando te entri chi entra trova il tuo link allora poi eravamo rimasti annunci compra la pagina iniziale inizia la navigazione cioè quello che vi ho detto per guadagnare questo in pratica dovete cliccare 10 volte per avere per fare arrivare questo ricominciare questo a 24 ore poi questo è per pubblicizzare i siti internet dichiarazione dei crediti poi strutture dei soci link visual cash url rotator questo serve per fare con un link fare più pubblicità questo non lo so ancora poi banner e per tutte le promozioni banner pagina destinazione test link e così via email promozionali dillo agli amici i miei referenti che sono naturalmente come avete visto sono a zero poi naturalmente io ho cominciato come abbiamo detto da un mese e non è che li sappia tutti come funziona allora come funziona pubblicizza dunque vi faccio vedere i vari piani che dovrebbe essere no ho sbagliato non è qua eccoli qua ok ah questi sono i vari pacchetti eh dieci eh i dieci eh duecentocinquanta eh duecentocinquanta crediti eh eh dieci dollari duecentocinquanta crediti eh per fare pubblicità eh ottocento per i banner eh di testo ottocento banner crediti poi eh un ritorno eh revenue share di cento dieci per cento del eh e poi questo massimo dei pacchetti duecento in pratica con con duecento dollari ne potete comprare duecento di questo tipo uguale e questo eh poi si passa da quelli dai due dal questo è dall'euro ai dieci eh un dollaro e dieci a dollari questo è dai due ai venticinque dollari che cambia un po' testo e banner 500 e vi da il revenue share del cento quindici per cento massimo cinquecento pacchetti poi eh comunque questo è eh tre dollari cinquanta dollari eh pacchetto di annunci sempre eh dal eh dai 150 dollari e no scusate dai cinquanta dollari ai e dai 50 credici ai cinquecento crediti eh crediti per il sito eh dai diecimila crediti di testo ai diecimila eh crediti banner se il revenue share eh massimo duemila questo è massimo duemila di pacchetti eh questo revenue share del cento venti per cento poi eh questi sono per per acquistare come vi ho detto le eh gli annunci di testo è un'altra cosa che si può fare eh i banner e così via vediamo un po' il testo di crediti eh tre dollari eh se volete aumentare il vostro i vostri crediti in pratica eh scambio di traffico 5.000 crediti 50.000 crediti a sito 25.000 crediti a sito e così via questi sono i click eh magari ve li potete scorrere tutti belli tranquillamente 10 click 4 click eh e così via e questo e questo ritorniamo nella pagina iniziale questo per quanto mi riguarda è The Hands Team eh eh quando magari farò anche un video eh un video eh un video sull' sull'acquisto del pacchetto eh e e vediamo un po' e e e continueremo a ad andare avanti eh io spero che vi vogliate iscrivere al mio link eh e farmi eh partecipare a questa magnifica eh magnifica opportunità di guadagnare qualche soldo all'incirca mi hanno detto che tre quattro mesi dovrei arrivare eh senza referral perchè se uno c'è il referral eh ci mette meno tempo eh ad arrivare ad avere eh i miei 80 pacchetti tre quattro mesi al massimo e incominciare a ritirare questi sono il totale di click eh eh questi che sono altri i pack questi sono i click che ho fatto eh i guadagni che ho fatto cliccando sul pay to click questi sono ancora i miei crediti di annunci di testo e crediti dei banner bene bene allora io vi lascio vi lascerò il link in descrizione eh io spero che vi vogliate iscrivere e iscrivetevi al canale e mettete mi piace e commentate pure non spam mi raccomando e e vi lascio al prossimo video ciao 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 ciao